Siamo in una nuova era rispetto a quello che avevano fatto in Spagna. Come si fa a politica di queste cose? Beh, si fa soprattutto studiando bene dove eravamo arrivati. Dove eravamo arrivati? Eravamo arrivati perché i francesi avevano fatto questa bella introduzione della cricoliotopessia che è sicuramente un bello intervento. Però in tutti gli interventi di cricoliotopessia, dopo un certo momento, un mese, dopo due mesi, quando si inizia la riduzione cricolopidica, si vede, se si esamina bene la regia, che le aritenoidi vanno in avanti a chiudere lo spazio respiratorio per cui esce un poco di voce, ma esce brutto, perché questo che è stato individuato come saluto al intervento, questo piegarsi davanti della liberale, non fa altro che ricordare il motivo per cui è stata la guerra alla regna, che è uno sfidere inizialmente.